buonasera buonasera a tutti e bentrovati in questo mercoledì dove parliamo ancora di gdr e anche di scrittura oggi dedichiamo magari un 20 minuti anche la scrittura mezz'oretta anche la scrittura e siamo ancora qui con federico motta ciao grazie di nuovo per il palco come al solito figurati come l'altra volta appunto se avete domande avete gdr da suggerire scriveteci anche libri insomma quello che volete noi siamo qui per rispondere a un blocchetto apposta esatto siamo anche qui per tirare giù i titoli che voi ci date sui sui gdr e ne approfitto subito subito per invitarvi anche ad andare a seguire il canale vuoi descrivere vuoi parlarne tu allora ma molto sincero molto semplicemente allora io ho un canale twitch l'ho aperto da un paio di mesi ed è una cosa che avevo in programma da tanto tempo ma senza avere un programma preciso per il canale e mi piaceva semplicemente l'idea appunto chiamato il nascondiglio proprio perché mi piaceva l'idea di creare uno spazio in cui la gente ci si può si possa ritrovare per parlare degli argomenti più vari senza paura tra virgolette di giudizio di dover essere all'altezza di qualcosa eccetera semplicemente parlare liberamente delle proprie opinioni sulle cose eccetera io parlo molto di cinema parlo molto appunto di gdr eccetera però ho quella specie di via di mezzo perché online si vedono gente che si sta approcciando a un mondo o maestri del mondo che insegnano ai nuovi adetti tra virgolette le regole e tutto quello che ha a che fare con l'argomento quindi semplicemente se volete venireci a trovare io e un altro mio amico appunto parliamo di quello che ci va e lasciamo anche spazio a chi vuole appunto avere un piccolo palco a disposizione per parlare delle sue passioni sia su twitch che su youtube giusto e rica su youtube ricarichiamo le live allora poi dopo a fine live ve lo ricordiamo ancora e grazie mille a tutti quelli che passeranno esatto esatto passate almeno a a vedere insomma vedere un po se vi può interessare ma sono sicura di sì perché parla davvero di tante cose interessanti ormai da un po di tempo che ci conosciamo e insomma siamo qui anche oggi pomeriggio per parlare di iniziamo di gdr dai iniziamo rispondendo una domanda che c'è stata posta la scorsa live che è sì io ho giocato brate in glory ho giocato di time to dice insomma una breve una campagna molto breve però ho anche giocato con persone qui a casa avrà ten glory e l'ho apprezzato nel senso che da amante di warhammer non potevo insomma non non comprarlo e non apprezzarlo il regolamento lo trovo leggermente difficile un po cioè non difficile però un po po difficile farraginoso un po sì però una gran fica cioè bellissimo interpretare un personaggio in un mondo che appunto a me piace molto quindi questo sicuramente un gdr che che consiglio a tutti gli amanti di warhammer principalmente e non e non ecco infatti infatti perché appunto io io non l'ho mai giocato ma io sono proprio alieno al mondo di warhammer cioè uno dei motivi in cui seguo e leonora è proprio il fatto che così almeno mi insegna un po qualcosa di questo mondo di cui so così poco ecco nel senso ovviamente vale lo stesso discorso del gdr di fallout possono giocare anche le persone che non conoscono fallout sì se conosci un minimo però tutto spiegato insomma però se conosci un minimo l'ambientazione forse forse l'apprezzi un po di più sinceramente parlando poi vado avanti io allora dai vai vado avanti io con due manuali che in realtà non ho giocato ma che voglio comunque consigliarvi o almeno citarli in questa live perché magari qualcun altro li ha giocati e mi sapete dire se se vi sono piaciuti qualche feedback il primo è sigmata che è questo qua che mi ha incuriosito moltissimo è un vi leggo il retro che è un gioco di ruolo cyberpunk che parla di un insurrezione etica contro un regime totalitario già questo mi aveva convinto ok bisogna cercare qualcuno che ci giochi magari a settembre è uno di quelli che vorrei portare in qualche live qualche one shot gdr quindi questo lo proveremo lo proveremo quasi sicuramente se troviamo un party lo porto il secondo the bridge che mi è stato regalato a modena di quest'anno e che mi piace moltissimo sia a livello di contenuto è fantascienza questo ma anche a livello di estetica perché non so se si vede ma sembra proprio una rivista fantascientifica c'è anche il prezzo in lire esatto cioè non è non è che non è vero sì 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 ok ma anche dentro è fatto molto bene è anche piuttosto snello perché è veramente un sembra un urania ok eh sì 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 ma ricorda anche un po stargate sbaglio sì un pochino sì esteticamente sì 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 e ho trovato il regolamento molto snello ed è uno di quei giochi che mi hanno detto essere non per campagne lunghissime però sicuramente ecco danni focaccina che risponde adesso adesso diritti c'è mi fatto una domanda adesso rispondo l'ho letta con la coda dell'occhio però insomma vorrei vorrei provare questo agosto questo agosto farò una campagna molto breve di the bridge e poi vi saprò dire meglio nel dettaglio come è stata l'esperienza ma sono sicura che insomma mi piace ve lo dico mi piace però lo provo per onestà così poi saprò dare un'opinione onesta e sincera allora intanto saluto anche john e danni focaccina che scrive domanda cattiva per eleonora sapendo che li hai giocati entrambi meglio vrattenglorio il vecchio dark eresi spondo rispondo così contro il mio interesse stesso interesse dark eresi a me è piaciuto di più dark eresi però è anche vero che dark eresi l'ho giocato di più vrattenglorio l'ho giocato di meno quindi quindi lasciamo spazio al dubbio esatto esatto però così proprio di rispondendo così in maniera lampo ti dirà che eresi mi è piaciuto di più ecco bravo marco che risponde e basta e poi cioè basta poi ne avrei altri però direi che se hai un gdr tu mi consigliare yep 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 allora io mi sono ho incontrato questo gioco che si chiama lovecraft task che è uno un esponente di quella pletora di giochi che è venuta fuori da richiamo nick tulu banalmente però che mi ha colpito perché propone una meccanica particolare cioè si gioca in tre e le posizioni cambiano ovvero c'è un narratore un uno che incarna il personaggio diciamo è una specie di suggeritore ora non mi ricordo i termini esatti che vengono usati nel gioco di ruolo però comunque si inizia appunto con uno che fa il narratore uno che fa il personaggio e uno invece che aggiusta dei dettagli sostanzialmente quindi aggiunge magari delle pennellate a quello che già ha detto il master poi a un certo punto quando la scena che stanno raccontando è finita i ruoli si scambiano quindi una il master diventa magari il giocatore il giocatore diventa il suggeritore e viceversa eccetera eccetera e praticamente insomma c'è questa questa è un gioco narrativo quindi non ha meccaniche particolari a livello di tiri eccetera però si tratta proprio di costruire una storia ma non arrivare con una storia già pronta però dare il là a una a una narrazione che poi verrà continuata da qualcun altro quindi che magari prenderà una svolta imprevista o che se qualcuno vuole la dovrà riportarla sul binario quindi fai un po di railroad sul sul binario che lui stava cercando inizialmente e questo fino a che non si non si arriva a una conclusione del racconto e era molto interessante e tra l'altro contro il mio interesse l'ho regalato a al mio amico con cui ho aperto il canale twitch sì e quel maledetto mi ha perso il manuale sì sì infatti io aspettavo un sacco di tempo per detto loro lo regalo lo voglio regalare a me stesso però gli ho detto vabbè è il trentesimo glielo regalo a lui per quello una fitta alle alle costole guarda anch'io anch'io anche perché ancora adesso mi fa no no ma non l'ho perso è soltanto che non so dove si trova in questo momento bene perfetto va bene e niente quindi comunque mi piaceva questa cosa che nessun ruolo è ben definito e anzi cambiano e quindi si aggiungono si aggiungono parti diverse alla storia certo speriamo che lo ritrovi presto è esatto anche perché non lo voglio prendere un'altra volta per me benissimo e tocco io vai 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 che così non facciamo perché sto cercando di sollevarlo da da prima pesantissimo ok oh miglia è tremato tutto esatto e temen anche che sicuramente è molto è noto è noto sta avendo meritato successo è successo che si merita e temen anche davvero un ecco se the bridge vi avevo detto no ma la cosa un urania praticamente una cosa tranquilla cioè guarda non so se si capisce il il confronto sembra il pignami l'uno dell'altro ecco esatto esatto quella copertezza è l'astuccio esatto nel senso che sono 600 pagine è un fantasy però qui è grande grosso e sembra anche cattivo ma in realtà eh c'è dentro tutto nel senso che voi prendete questo manuale e avete i mostri l'ambientazione come la costruzione dei personaggi il mondo è un gioco che è in costruzione da tantissimi anni avevo intervistato l'autore proprio qui sul canale andate a rivedervela nel caso c'è la live con lui e abbiamo parlato insomma lui ci lavora da tantissimo tempo e si vede ed è un progetto a cui tiene molto ed è davvero cioè fatto bene fatto bene molto molto curato nel senso io non riesco adesso ad aprirlo perché veramente mi si però è insomma vale veramente l'acquisto sì ma non costa nemmeno tanto in realtà perché sono 60 euro per tutta questa bestia qua non è una cosa eccessiva assolutamente vabbè io lo consiglio questo per chi ama prezzo il fantasy ma soprattutto per gruppi di gioco che vogliono fare che vogliono fare campagne molto lunghe ok anni di campagna perché insomma per sfruttarlo a pieno secondo me questo merita molta attenzione ecco come dice christopher giustamente è il manuale che sostituisce la palestra cioè voi non avete idea di qua io ho già più muscoletti di prima nel senso lo sposto ma anche le illustrazioni sono veramente molto belle qui marco ti dice basato su lovecraft dell'esco spirit non lo conosco infatti adesso infatti me lo segno segniamo subito infatti allora prego e allora allora io volevo portare un altro gioco narrativo oggi mi sono mi sono mi sono segnato tutti i giochi narrativi esatto e i giochi che sto che sto citando oggi non li ho giocati ancora però sono giochi su cui mi informo da un po di tempo e sì anch'io john decisamente sono tutti d'accordo qui e si chiama la sposa di berba blu e è un gioco molto narrativo molto particolare in cui praticamente tu in persone cioè i giocatori in persona non la sposa ma diciamo che che stagì questa sposa sta girando per la maggiore di barba blu ora non so se tutti conoscono la storia però comunque molto semplicemente c'è questo questo quest'uomo molto ricco eccetera che sposa continuamente delle delle mogli gli dice di non entrare in una determinata stanza perché loro e ovviamente tutte vanno a nella stanza e trovano i cadaveri delle altre mogli e praticamente questo gdr è un viaggio nella mente della sposa quindi il master crea sostanzialmente delle stanze che vengono visitate dai giocatori che sono le diverse personalità della sposa quindi la pace tutte le parti che compongono la struttura di una mente umana e tutte queste stanze avranno a che fare con la storia della sposa e si dovrà arrivare a capire come sono arrivate lì perché perché vogliono restare con quest'uomo eccetera cosa le attrae di lui e tutto quanto è un gioco che sinceramente non avevo mai visto una struttura del genere e infatti gli amici mi ci sta informando da un po e probabilmente sarà uno dei prossimi acquisti si si guarda qui danni ti chiede non ho capito tutti i giocatori fanno lo stesso personaggio cioè la scusa allora allora sì però fanno le parti diverse della personalità cioè fanno tutte la lo stesso personaggio però delle delle accezioni diverse della stessa persona quindi magari iperbolizzano qualche tratto caratteriale e a me piace molto questa cosa perché molto psicologico è molto anche banalmente cioè è una specie di terapia da un certo punto di vista che ti entri proprio nella nella mente di questo personaggio bello però molto particolare stai dicendo dei giochi molto beh sì narrativi ma anche un po diversi dal solito sono molto belli è molto originale ed è originale come obsolete city rules in questa versione il kickstart quindi è molto molto piccolino ma questo è vera l'ho trovato molto originale nel senso che uno aizza il master contro i giocatori e viceversa che cattiveria esatto e ti permette di sfogarti con il party dopo anni e anni di angherie e soprusi finalmente uno può prendersi le giuste rivincite però è anche molto a parte che ha un design molto metal cioè nel senso anche dentro delle illustrazioni molto cd eccolo lì quindi anche innovativo in questo ma praticamente il master non deve fare nulla nel senso si tira tutto 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 affidato al tiro di dado dal personaggio a sono tabelle dappertutto praticamente la magia il dungeon tiri tra una biblioteca un corridoio cioè puoi creare il dungeon nel senso la premessa che appunto il master non non ha preparato nulla e quindi si affida al manuale per creare l'avventura che figo esatto ma ovviamente è un manuale per almeno noi l'abbiamo giocato in serata resta a cronache campagne certo assolutamente di sicuro non è per neofiti questo è inteso con il tuo gioco ma sì 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 ma io penso che in generale tutti i giochi narrativi non siano non siano tanto per neofiti perché comunque devi ancora magari prendere prendere familiarità con come si chiama con con i meccanismi del gioco di ruolo magari hai ancora quella quella vergogna di ruolare effettivamente quindi comunque devi ancora prenderci prenderci la mano e quindi magari queste cose le tieni per quando sei più rodato eccetera quando quando la scimmia è partita insomma questo qui lo consiglio perché è molto divertente divertente per una serata easy che andava in coppia con lo tiro fuori subito sì dai erano così uniti allora allora ok io cercherò ok one shot one kill con questa copertina bellissima con un tizio che spara fa blam blam certo è un gioco di ruolo d'azione molto palpe decisamente trash una produzione rose and poison me l'hanno regalato anche questo a modena me l'hanno regalato per perché modena era vicino al mio compleanno quindi i miei amici hanno fatto un po di spese nel frattempo che giravano per la fiera e mi piace c'è proprio il classico anche questo nel senso è non da prendere sul serio ovviamente e per farci una serata regole ovviamente super semplici sugli stereotipi di film d'azione dove non si finiscono mai proiettili non è realistico per niente assolutamente è da prenderlo non l'avrei mai detto so che adesso ti lascerò sconvolto ma non è realistico per niente c'è anche un talento che è deflettere la sfiga che è bellissimo ecco quello mi servirebbe effettivamente vero che a me sì 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 doppiaggio errato il passaggio lettura veloce del copione cioè missione suicida che bello è tutto tutto così insomma però c'è da dire che è bello grosso per essere un manuale di un di un gioco appunto non da non da campagne lunghe è un una rivista d'aito ok no no dico proprio cioè è proprio grande è proprio alto per un quaderno no più che altro perché di solito quelli i manualetti così sono appunto più più ridotti più immagini di pregio assoluto e quindi ecco con questo io non so se tu altri gdr ma io allora in realtà ce n'è uno però appunto non posso dire tantissimo anche perché lo provo stasera però si chiama veisen si chiama veisen questo gioco e il mio master mi ha detto semplicemente che è un gioco che ha a che fare con con la cultura nordica quindi con tutto il folklore vichingue oltre celtico eccetera e ha un po sembra un po e non so se tu hai mai letto un un fumetto che è uscito anche abbastanza recentemente che si chiama qualcosa sta uccidendo i bambini guarda l'ho sentito però non l'ho letto ok io ho letto il primo di quello lì e mi ha ricordato molto questo qua quindi ci sono ci sono proprio dei mostri che non vengono visti da tutti e chi li vede si sta organizzando appunto per andare a caccia di questi mostri e tutti questi mostri sono presi dalla mitologia celtica norrena eccetera eccetera quindi horror no esatto 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 tra horror e e road non movie ma road gdr diciamo perché comunque sei sulla strada a sparare mostri eccetera non so se sparare o perde o vedere perché appunto non avendoci mai giocato non posso dire effettivamente come sia però il concept mi sembrava molto carino e stasera vediamo se riusciamo a far fuori qualche mostro celtico bello bello mi sa mi è venuto in mente vhs un altro gioco ah sì 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 quello vale molto la pena secondo me tanto vhs è anche il nome di un un film horror che è un un film episodi ah ci sono tot film presi proprio dalle vhs eccetera molto carino ok molto famoso guarda christopher ti risponde prima ti fa un commento con diciamo cani nella vigna la mia vita col padrone cuore di mostro mi sembrano molto più semplici della sposa di barba blu tra l'altro non ne conosco nessuno però christopher che come al solito ci dà un sacco di spunti ok ma infatti adesso farò dopo mi guardo la live me li prendo tutti però sì è molto è ci sono sicuramente molti giochi più semplici semplicemente la sposa di barba blu secondo me per qualcuno che ha una certa esperienza nei gdr secondo me è un buon modo di mettersi alla prova con qualcosa che non sia nel nel canone classico diciamo certo e poi dice che è one shot one kill sulla falsariga di mario merola rpg il ddr gratuito basato sul film di mario merola madonna ma christopher ci stai tirando fuori delle perle io me lo segno ma questo l'ho segnato però questo cioè questo l'ho già sentito io non è la prima volta che me lo dicono perché un po di trash lo vivo un po di trash lo vivo quindi quello mi sembra di averlo sentito guarda e invece è tipo uscio e tora ambientato ai tempi dei vichinghi anime però non so se sia non so se sia ai tempi cioè ai tempi moderni o se sia in un mondo parallelo in cui ci sono queste cose non so ancora niente ok ok allora io i gdr diciamo principali li ho detti un po la volta scorso un po questa volta poi ce ne sarebbero altri ma insomma come ci segnano gli utenti della tua chat ce ne sono sempre altri che non conosciamo esatto come i refusi ce ne sono sempre altri non è vero che li hai becchiati tutti anche in un post anche in una mail so che mi capisci ma ecco sì 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 decisamente poi è terribile quando succede che devi correggerti da solo perché ci sono gli errori sempre e non li vedi mai sì sì di solito leggo e ne trovo qualcuno ok lo correggo poi leggo ad alta voce perché ad alta voce ti costringe a quindi leggo ad alta voce e dico ah vabbè ma anche questo è un refuso sistemo poi sto per inviare la mail o per mandare il posto quello che è dico vabbè dai do ancora una ricontrollata veloce e ricontrollando ancora ma sei scema la terza volta sono quattro righe è così è sempre così va bene infatti infatti anche sulla scrittura questa cosa qua è terribile perché rifare la tua correzione di bozze è assurdo perché ogni volta ti sembra rileggere qualcosa di diverso e dici ma io che cosa ho letto le altre quattro volte esatto esatto e parlando di scrittura parlando di scrittura marco ci scrive una domanda per villanora da scrittrice cosa ne pensi dei journaling cosa sono ammetto che anch'io stavo per chiederlo a te effettivamente però non volevo fare una figuraccia però non lo so marco dici che cosa sono 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 una definizione tipo chat quelli che il lia che te lo scrivo no non lo so magari non sto dicendo una cretinata non so journaling boh mi dà l'idea di un giornale di bordo non so magari una cosa del genere però vediamo esatto a tipo mille anni da vampiro io non perché sia perché non lo so io mi hai detto mille anni da vampiro marco spiegaci se hai voglia e sei voglia che cos'è mille anni da vampiro sono dei spiegacelo qui john ti chiede intanto che aspettiamo appunto che che marco ci spiega ci ci aiuta a capire cosa sono i journaling john ti chiede si può fare un'ambientazione dove il buono è il cattivo e il cattivo è il buono allora a parte che penso di sì cioè nel senso di solito per questi concept molto generali non ti dovresti prendere un gioco da ambientazione ma un gioco di regolamento tipo savage world così ti crei il tuo mondo e puoi mettertelo come vuoi tu come preferisci tu a seconda delle caratteristiche preferisci di che preferisci dagli ti prendi un sistema di regole ti crei il mondo a immagine somiglianza da virgolette di quello che che vuoi raggiungere della storia che vuoi fare tra l'altro a proposito questa cosa mi ricorda una domanda che che mi è venuta in mente anche l'altra volta per quanto ti riguarda la creazione delle storie che usi per i gdr eccetera vengono da un impianto cioè ti vengono prima l'impianto narrativo o ti vengono prima i dettagli da cui poi ci costruisci attorno tutto il resto allora per quanto mi riguarda a me vengono prima i personaggi ok cioè nel senso tu parli di gdr cioè di storie soprattutto ok allora mi vengono prima i personaggi cioè io prima creo i personaggi con i giocatori ok c'è ne parlo prima e insieme si dice tipo cosa vogliamo fare allora io vorrei fare una storia horror te hai in mente qualcosa cioè capisco un po il mood del del party poi da lì ovviamente avendo scelto prima il manuale poi da lì si discute insieme su che tipo di personaggi si vorrebbero fare oppure se la scheda è randomica si fa una scheda una scheda si parla anche del loro background nel frattempo cioè è un insieme non lo faccio da solo lo costruisci mano a mano coi giocatori esatto ma quindi tu parti con i giocatori dicendo ok giochiamo qualcosa che a che cosa vi piacerebbe giocare scelto il manuale inizia a costruire il tutto ok sì 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 perché guarda un'idea talmente che mi c'è tipo non so voglio giocare a mi viene in mente vrata in glory ho già in mente la storia e in questo caso parto da una da un evento ok ok cioè penso un evento che è successo o che vorrei far giocare ai giocatori e da lì in poi costruisci ciò che ci sta intorno ok ok perché io spesso e volentieri allora io non ho fatto spesso il master però quando mi capita di farlo io parto come a scrivere un soggetto cinematografico cioè mi prefiguro tipo una scena o comunque quello che voglio raccontare e poi piano piano capisco come con che gioco farlo ovviamente quei giocatori si ci si mette d'accordo come dici tu per i personaggi eccetera e da lì parte il tutto però il concept è la cosa più forte nelle nelle mie storie è anche cioè così è anche nella scrittura in realtà cioè io mi immagino quello che voglio raccontare in piccolo diciamo in mezza pagina di word e poi dopo da lì ci costruisco intorno tutto quanto certo certo ma le tue storie hanno tanti png perché io finisco sempre con non è un problema poi in realtà perché a me piace interpretarli mi piace giocarli mi piace che ce ne siano diversi però effettivamente io ho tanti png cioè di solito finisco la storia con tanti png intorno ok allora in realtà quello quello è una utili cioè nel senso non png tipo il fabbro che le vedi una volta ti fa tinting la spada più due se ci sono ci se ci sono vuol dire che devono raccontare qualcosa esatto ok allora da quel punto di vista a me piace sostanzialmente immaginarmi png immaginare che per cosa potrebbero essere utili eccetera il mio limite in quel caso è la meccanica del gioco cioè il fatto che per alcuni giochi ci devi proprio fare la scheda del personaggio sì e sinceramente questa cosa è una è un cioè mi toglie la voglia di farli ok perché pensare nelle regole cosa dovevi fare per crearmeli mi toglie un po di un po di voglia di crearli quindi magari li li limito un po quando non sono necessari ok e tu sei più da gdr lungo o gdr corto nel senso più da campagne adesso non dico di anni di dieci anni però non lo so di almeno qualche mese allora io sono più per le one shot in realtà perché molto spesso secondo me esprimono in modo migliore la storia perché comunque c'è non dico una one shot di una volta sola magari una one shot di una due tre volte ok suddivisa in questi però di solito mi piace ciò non vuol dire che se una storia studiata bene eccetera non mi appassioni anche con anni di distanza cioè noi abbiamo fatto delle campagne di dnd che ci sono durate tipo un paio d'anni e la prima parte tra l'altro ho fatto un personaggio che a cui tenevo particolarmente e quella storia lì mi ha mi ha proprio preso e però comunque sì cioè se devo se dovessi scegliere tra le due ti direi tante one shot ok ok perché poi mi dà modo di non stufarmi magari della storia perché io non so se se ti sia successo qualche volta però a me succede ogni tanto che quando è tanto tempo che sto dietro una storia se ci sono dei dei momenti di down nel ritmo perdo un po la la presa ok perché per esempio io ho una buona memoria però non e non prendo tra non e non prendo tanti appunti ok no no io no cioè devo prendere punti sempre ma anche se facciamo una one shot del cavolo io devo comunque scrivere dove devo andare come si chiama il mio capo perché se no basta una settimana ed è vuoto zero cioè ma è sicuramente meglio perché comunque anche anche avendo una buona memoria i dettagli partono ogni tanto è normalissimo però diciamo che stare lì a prendere appunti mentre gioco mi toglie un po l'attenzione ma beh certo sì sì non deve diventare essere all'università cioè se no al 1 per la voglia di giocare però sì ecco tanto che stavi parlando dei personaggi dei png mi hai fatto riflettere dicendo anche che le storie io le costruisco molto in base a quello che fanno i personaggi mi spiego meglio io creo un canovaccio però sono le scelte dei cioè io creo un mondo entro cui i personaggi fanno una cosa un'altra un'altra però poi sono i personaggi effettivamente a decidere e a dare proprio forma al mondo sono campagne assolutamente libere nel senso uno può veramente fare quello che vuole e quindi non potendo pensare a tutti i risvolti decisionali dei pg non posso essere così fiscale sull'ambientazione o la storia cioè io posso fare bene i png nel senso che io so cosa è successo non lo so alla tizia che è stata assassinata cioè so chi l'ha uccisa so come so quello però non so come verrà ritrovato il corpo ad esempio certo ok ma infatti tra l'altro questo ragionamento mi porta a una cosa che mi avevo scritto cioè secondo te il master è più un bardo che racconta una storia o più un attore che improvvisa sul sul palco è ok allora o un bardo che racconta una storia no uno che improvvisa esatto anche secondo me cioè anche secondo me io sono dell'idea che la storia il mio master quello che mi ha fatto appunto più più parti del modi di quanti ne abbia fatto eccetera mi dice sempre che la cosa importante secondo lui è fissarsi un punto di partenza bene o male un punto d'arrivo cioè sai più o meno dove devono arrivare e il resto libero cioè ti poni delle scadenze dice ok a questo punto potrebbe succedere questo a questo pesante deve sapere questo a prescindere da quello che loro fanno e poi tutto il resto lascialo libero non so se mi ricordo male o no ma tu suoni no no per fare una analogia con i musicisti il master secondo me deve essere come musicista che va alle jam session quelle libere ok nel senso io vado quella serata lì dove so che faranno una jam session blues cosa devo sapere devo sapere le scale devo sapere le note devo portare il mio strumento devo conoscere magari due o tre quattro canzoni però l'importante quando sai le scale quando hai un po di mestichezza col ritmo puoi andare una jam e tentare una volta che sei dentro però tu non sai cosa farà effettivamente io parlo da bassista non sai che farà il batterista chiterrista e il pianista non lo sai quindi devi andare un po a sentimento sentimento esatto però non è che devi metterti di fare cioè devi comunque saper suonare quindi secondo me il master deve fare quello cioè lui deve capire che è chiuso in un genere in nel manuale nelle regole del manuale che sta gestendo però il resto è tutto devi entrare anche un po in nel mood elastico elastico mentalmente esatto anche perché tra l'altro una delle cose secondo me meno efficaci è quando il master deve fare railroad cioè se se il master si è prefissato una certa direzione i pg come sempre succede prendono tutt'altra direzione railroad è proprio lo sto spiegando non perché penso che tu non lo sappia semplicemente e quando appunto prendono una direzione che il master non vuole che che seguano fa succedere qualcosa che riporta la narrazione forzatamente sulla via che lui si era prefissato no io così non lo faccio ne no infatti neanch'io neanch'io perché il bello del gioco di ruolo è proprio cioè deve essere sim più simile possibile alla vita vera quindi che non c'è che le tue azioni qualsiasi situazione influenza così tanto il gioco che cambia alla realtà esatto è quello che cioè è lo step successivo a quel tipo di giochi tipo la telltale per dire che hai tot scelte però anche lì hai delle scelte limitate che comunque rientra in un determinato numero di outcome certo e invece così c'è un master buono bravo eccetera deve essere bravo non solo a raccontare bene la storia ma anche ad adattarsi alle alle sviste del caso certo guarda recupero mi ha fatto venire in mente una domanda che adesso ti faccio prima recupero un pochettino di commenti vai vai che sono di christopher consiglio savage world di rimediare l'adventure edition piuttosto che la battle edition che è molto più leggibile sì lo recupererò perché non lo conosco quindi sì a savage world non conosci lo conosco non ci ho mai giocato ok 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 esatto io ci ho fatto una one shot t di savage world però era proprio una roba passante ok qui c'è danni focaccina che dice personaggi c'è gente traumatizzata dal profumo di lilla sì perché un'avventura che ho creato girava in tutta intorno al profumo di lilla sospetto un'avventura di sinereppe trama che ho già detto la scorsa live marco ci ha illuminato dicendo è lunga da scrivere sono tipo diari con degli spunti da ampliare cosa hai fatto quando hai scoperto che persona x ha tradito e il giocatore come se scrivesse un diario mette per iscritto la scena ma sono tipo libri game qui è il soli big game che scrivito però nell'effetto guarda marco non ero completamente ignorante ma il mio ignorante in materia anch'io anch'io ma me lo vado a riprendere perché è una cosa che potrebbe incuriosirmi adesso dipende come fatta ma e cos'è com'è che si chiamava journalism si chiama aspetta aspetta che vado a recuperarlo giornaling grazie marco che andrò a vedere andrò a vederli ora vittoria ci dice che sta guardando la live con suo figlio picco di tre anni federico salutiamo 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 del nome non diremo è vero è vero puoi confermare non diremo più parolacce non è vero lo sappiamo dire un più parolacce luca ci dice quando faccio il master io affronto l'affronto come scrivere un romanzo tendo a vedere tutto come lunghissime epiche campagne quindi niente di utile per sessioni singole o brevi tipo davvero dieci anni ammazza luca luca io faccio fatica a finire una campagna di sei mesi è un mutuo ma veramente no però è bello bello se c'è un master dei giocatori che ti seguono è interessante sì 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 no ma assolutamente poi soprattutto se c'è un master che riesce a tenerti l'attenzione alta per tutto quel tempo quello è molto figo esatto cioè non è non è solo su di lui ci devono anche essere i giocatori a creare un gioco insieme perché comunque la narrazione condivisa quello è però comunque sia ci sta ci sono modi diversi di vedere la stessa cosa qui invece però christopher ci dice che lui ci consiglia molti giochi ma in realtà ha un fortissimo blocco del master è da tempo che non riesco più a scrivere qualcosa ho aspettative troppo alte per me stesso capisco cioè capisco non sei l'unico che denuncia denunzia questa cosa denunzia le autorità esatto esatto il consiglio di m che mi viene da darti è di buttarsi come la scrittura nel senso al blocco dello scrittore non so cosa fare scrivi scrivi è proprio è grazie esatto vedo che anche tu sei abbonato ai consigli quelli no tipo non voglio farlo fallo è sì cioè banalmente ma e lo meglio lo traslo anche sempre su di me perché è molto difficile da seguire come consiglio non è non è facile affatto però cioè io ho visto che anche con la scrittura nei momenti in cui c'è il blocco perché quando hai il blocco ce l'hai e si sente scrivi roba che odierai perché lo sai già che la odierai però scrivi un sacco e alla fine bene o male in qualche modo ci esci certo certo è vero è l'unica davvero l'unica l'unica cosa che puoi fare magari potresti iniziare creando una one shot con un gruppo di amici intimi che sai che appunto tra virgolette perché non dovrebbe mai accadere nel gioco di ruolo ma che sai che non ti giudica chiamiamo diciamo così che sei meno sotto pressione che sei più easy magari due o tre amici dice ho questa one shot magari prefatte inizia così magari ci aggiungi qualche dettaglio tuo potrebbero essere degli spunti per sbloccarti un secondino ma insomma non ci devono essere alcuni che poi la base del giocale di ruolo dovrebbe essere creare degli ambienti in cui tutti si sentono a loro agio esatto esatto quindi guarda poi le regole sono sopravvalutate bravo sono d'accordo anch'io sono d'accordo sono molto d'accordo esatto esatto e su questa adesso ti faccio la domanda speriamo di ricordarmela non me la sto appuntando non me la ricorderò mai però in con i vtt improvvisare è davvero difficile io leggo nei tuoi occhi perché lo leggo anche nei miei che io non so cosa sono i vtt è che le che quando mi ci sono queste abbreviazioni mi sento sempre un idiota magari lo sappiamo ma magari ma l'abbreviazione non la conosco esatto dice sì però alcuni sandbox con orologi prefissati non è male che qualcosa accade a determinati momenti del tempo anche se i giocatori non sono presenti da al mondo più realismo esatto quello l'ho notato quando ho giocato a alice is missing perché in alice is missing a prescindere da quello che fanno i giocatori ci sono tot a virtual tabletop ok infatti lo conosco ma non sapevo esatto esatto e appunto che ci sono le carte in cui succedono le cose in un determinato momento minutaggio del del timer ho visto che che aiuta molto la trama a procedere bene esatto qui stanno appunto passando commenti di giorgio che dice che più avventure che preparo cioè prepara i canovacci più masterizzo più imparo ad sostrarmi l'improvvisare vero sacrosanto si dice master o masterizzo io ho sempre io ho sempre usato masterizzare è molto bello è vero però però esatto però non metto limiti cioè mi piace anche masterare tutte e due come come via e come si sente meglio infatti è infatti sto facendo world building di recente ma la pandemia ha bruciato insomma christopher e anche un po tutti siamo presi se vi può interessare anche oltre ai journaling ci sono anche avventure solitarie oltre dungeon crawlers e qua for against darkness come l'owner e la via dell'avventuriero beh sì dungeon crawlers sì lo conosco e bello ce l'ho lì non si vedrà mai perché piccolino ma lì però è molto molto interessante però appunto come diceva giustamente marco in solitaria no in solitaria dungeon crawlers è per quattro giocatori non è vero non è in solitaria stavo pensando una cosa ne stavo dicendo un'altra ma ho capito capito sì non sono proprio gdr quello volevo dire non è proprio un gioco di ruolo tra l'altro la domanda che dovevi farmi te la sei dimenticata o no me la ricordo ok che la ricordo come master tu sei un master giusto o un master che bara bara sempre come vara assolutamente sì 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 io sono dell'idea che non mi piace che la storia debba essere cioè io debba cambiare quello che sto raccontando solo per un tiro di dado sbagliato o per una regola che mi impedisce di fare una determinata cosa se cioè ovviamente è sempre aperta la cosa cioè io lo faccio se tu lo noti e ti dà fastidio o pensi che la cosa sia sbagliata tu giocatore ovviamente ci se ne parla volentieri però io penso che il tiro c'è il tiro il dado non è sacro per quanto mi riguarda è una roba relativa perché se c'è la scena figa tutto quanto eccetera un fallimento un successo nel momento sbagliato perché poi ovviamente cioè non è che si bara soltanto in positivo si bara in negativo anche da master secondo me cioè se io ho il mi sono creato l'npc super figo che voglio che gli spazza via tutti che cosa stanno giocando a fare se mi fa io tiro solo critici e questi vanno giù come mosche allora a questo punto lo nerfo un po mentre lo sto giocando che almeno gli do una mano ok 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 cioè da questo perché tu sei molto più per per le regole stabili no io ero io ero come te solo che poi ho assistito a diverse tra cui due esperienze molto negative dove il master per quanto mi riguarda ha rovinato l'esperienza di gioco a tutti barando in maniera veramente veramente troppo eccessiva poi ci sono state anche ho visto anche discussioni dove io non ero coinvolta ma discussioni al tavolo che mi hanno fatto dire anche dopo aver parlato con matteo curtini che ricordo ha sempre ragione dell'ho scritto anche sul manuale di level up che non non riesco più a sopportare il il master che bara il tiro cioè io preferisco che se il personaggio l'ho creato con tanto amore ma se deve morirmi alla prima sessione morirà ok cioè nel senso lo trovo più più mi ci trovo meglio adesso più giusto esatto esatto lo trovo più giusto allora io personalmente allora ho partecipato anch'io a un a un una sessione in cui come si dice era era proprio cioè diventava proprio evidentissimo che il master stava barando però ma nel modo sbagliato cioè banalmente c'era il mio personaggio appunto che stava parlando con un npc molto importante ok uno dei pilastri della campagna e questo gli ha tirato una stilettata e il master non mi ha fatto fare il ts che quello non aveva senso cioè quello era un tanto ti deve colpire lo stesso no perché se faccio 20 le regole mi dicono che che me lo passo in quel caso anch'io non avrei barato perché non aveva senso barare in quel momento lì cioè quella è la cosa io gli metto un sacco di bonus per riuscire a colpirti però se non ti deve colpire non ti colpisce da quel punto di vista sono d'accordo con te ovviamente o classi armatura cambiate a me viene in mente un esempio nel nel cinema nel signore degli anelli ok no nel signore degli anelli ad esempio cioè adesso non mi ricordo più che vergogna quello che che taglia le dita a sauron isidur che fa una cosa super epica no taglia le dita non getta l'anello se lo mette al collo e addios come dice canna vacciolo se ne va isidur muore in maniera piuttosto possiamo dire nel film piuttosto cretina ok se lo ricordate ma lui sta andando a cavallo a un certo punto arrivano sembrano dei dei predoni non viene specificato nel film e lo colpiscono lui va giù cade nel fosso il corpo viene trascinato via e l'anello si perde eccetera eccetera e da lì inizia poi tutta la storia del signore degli anelli questo in una campagna avrebbe fatto incavolare secondo me molti giocatori molti giocatori perché dicono io interpreto isidur ho appena ucciso sauron come posso morire che sto andando quando magari non lo so in un taverna ci sto andando ma non posso morire così e invece sempre nel film ricordo nel film è lo spunto che poi dà vita a tutto quindi questa cosa ancora questo dettaglio ancora più mi ha convinto a se il tuo personaggio deve morire anche se è uno che ha compiuto delle gesta non delle gesta vabbè tutte quelle cose lì se è arrivato il suo momento è come tu in lannister che muore sul water cioè nel senso mamma mia che bella quella scena madonna e tra l'altro tywin è uno dei miei personaggi preferiti del trono di spade tra l'altro anche lui anche lui però da quel punto di vista quella concezione mi è cambiata un po' da quando ho giocato a 7c perché a 7c come funziona i personaggi non muoiono a meno che i giocatori non lo scelgano cioè il personaggio se arriva alla fine dei punti vita esce di scena però uscire di scena non vuol dire che muove anzi c'è proprio specificato che non muore ok e da noi è successo nella campagna che stavamo facendo che uno dei uno dei player ha come si dice ha deciso che il suo personaggio aveva finito quello che doveva dire e quindi ha deciso che sarebbe morto in modo epico eccetera anche perché vabbè a 7c se giochi a 7c fai l'eroe sì 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 e sto leggendo anch'io i commenti sì sì no perché io sto facendo passare sotto di che appunto si sta stanno un po' parlando penso che sono più o meno tutti d'accordo col barare ma in maniera non eccessiva ok però chi più chi meno vedo un maledetti nei tuoi occhi sottofondo maledetti ma che cavolo però capisco cioè capisco nel senso perché anch'io sarei una bugiarda dirvi no non è vero ho sbattuto la testa adesso è così solo che veramente dopo quelle due esperienze lì veramente no no ci sta no no ci sta è come quella volta che ho bevuto un cappuccio e dopo mai più cappucci non vi lascio immaginare ok che cosa sia successo ma è ben deciso che l'esperienza insegna comunque stavi dicendo e che tra l'altro mi sono perso completamente dovevo arrivato no ma io ho una buona memoria mamma perché non sapevo che non dovevo mettermi a leggere intanto che ci pensi ti dico esiste una scuola intermedia appunto il dado è quasi sacro il master può intervenire solo quando la situazione è davvero drammatica ad esempio variazioni alle statistiche di un mob vanno sempre accompagnate da almeno un aggettivo che le descriva il barare i dadi del master serve a mio diro ad evitare le botte di sfiga eccessiva anche Giorgio è d'accordo fabula ultima anche fabula ultima non si muore è vero sì 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 mi ricordo è più d'accordo con sinceramente sono più d'accordo con ah è più d'accordo con me ma con alcune eccezioni ma allora non sei d'accordo con me altrimenti saresti un sit only sit deals in absolute sei ancora un G di grigio Christopher no 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 ci siamo comunque sì mi sono ricordato allora stavamo parlando appunto di questo personaggio che ha deciso di morire e per me è stato un po' uno di quei punti di presa di coscienza perché fino a quel momento avevo sempre giocato appunto tenendo ai miei personaggi cercando in ogni modo di evitare che morissero sì e quello sinceramente mi ha insegnato che se la situazione lo richiede non mi devo legare così tanto ai miei personaggi ma anzi cioè gli toglierei la possibilità di fare determinate cose che appunto come nella vita uno prende il rischio se va bene va bene se va male comunque sarà ricordata la cosa sì 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 quindi su quello sono d'accordo il mio ragionamento era soltanto che da master io preferisco che i miei giocatori non muoiano perché magari ho settato un personaggio leggermente più forte di quello che potevano eccetera o che è una giornata in cui mi va di culo e uso solo critici e quindi cioè piuttosto cerco di evitare cioè aiutarli eccetera dargli consigli e via 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 quindi sai rientri nella categoria del master si può dire anche se è buono cioè deve essere buono sì anche se poi non è vero che buono o cattivo sono cazzate però esatto è più che altro cioè il master che tiene ai suoi giocatori che tiene alla storia cioè che ha ai giocatori più che alla storia io no io non tengo a nessuno a niente e a nessuno si gioca e si muore così la cosa che sta dicendo Federico sul giocare accettando i rischi secondo me si impara molto bene giocando live vero ecco quella tra l'altro era una cosa che volevo chiederti perché sia da quando c'è stato il covid è uscito un po' il discorso del giocare a distanza c'era anche prima però è uscito proprio fuori prepotentemente con il covid eccetera per quanto ti riguarda il giocare in live come l'hai vissuto e come perché ovviamente adesso che ne stai facendo un sacco cioè non mi immagino che tu mi dica no mi fa schifo però comunque sia vorrei capire come hai preso la differenza tra il giocare da tavolo cioè il giocare al tavolo e il giocare invece a distanza e con persone sempre diverse magari anche sì sì no allora personalmente giocare online perché durante il periodo del covid noi siamo andati avanti a giocare con appunto di amici però eravamo su discord è stata una mezza tragedia perché perché chi è abituato a giocare dal vivo porta certi non difetti però certe abitudini anche online che non possono esistere cioè online è un altro modo di giocare secondo me rispetto che dal vivo dal vivo vivo non live cioè dal vivo quindi con un gruppo con cui giocavo già al tavolo è stato abbastanza orribile nel senso che era tutto un continuo shh raga non accavallatevi parlate uno alla volta no no è una cosa difficilissima per il solito i gruppi che gestisco io sono interpretano molto giustamente non aspettano il loro turno cioè si parla e uno dice no sta zitto no così ma no non capisci un cazzo così no e si scannano tra di loro online è più difficile con gruppi ecco con gruppi invece con persone con cui non avevo mai giocato è stato molto piacevole perché si sono ritrovati subito bene con le meccaniche sì 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 anche se io preferirei insomma sempre giocare certo nel senso però piuttosto che piuttosto che niente le mie piuttosto come dicono qui bellissimo lo dicono anche qui sì 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 perfetto piuttosto che niente le mie piuttosto è sempre piuttosto che niente è meglio piuttosto traduco però no poi dopo uno ritrova la quadra e si diverte tantissimo lo stesso anche se è online vabbè ci sta ci sta io personalmente e allora io ho avuto delle esperienze online ok quindi non tante ne avevo fatte quattro tutto tutto sommato ho riscontrato appunto le problematiche che dicevi tu penso che sia essenziale quando è online il party piccolo è la cosa migliore per forza quattro giocatori sì ma c'è anche meno cioè quattro giocatori master compreso ah ok ok perché comunque sia molto più semplice dare i turni è molto più semplice non fare a cavallare le cose è molto più semplice dare aria ai giocatori perché comunque sia spesso e volentieri cioè si gioca tutti insieme però comunque ci sono quelle piccole parti di palco da dare ai giocatori per fargli fare non dico i monologhi però comunque quella parte di storia che riguarda lui esatto esatto che poi dal vivo ecco una cosa che mi ha ricordato appunto è che online le persone tendono a rompersi di più le scatole nel senso e parlo solamente di persone che già conosco perché di quello sto parlando perché essendo appunto eravamo in tante eravamo in sei ok è difficile perché dal vivo riesci a tenere più alta più vigile l'attenzione online uno è sdraiato a letto l'altro è sul divano l'altro si mette così però in realtà c'è il cellulare invece dal vivo sa festa po' che ha un altro detto oggi parlo di a letto vuol dire qualsiasi cosa tu faccia c'è più coinvolgimento ok quindi ecco è difficile mantenere la disciplina secondo me no è vero sono d'accordo tutto sommato sono d'accordo è bello che la buona parte delle community eccetera abbia ben preso questa questa possibilità perché comunque sono uscite tante campagne tante cose giocate a distanza però nelle nelle cose con le persone che hai rodato eccetera lo trovo un pochino più complicato se non sono già loro di per sé abituati a esatto esatto ora che ci dicono che online si brucia per i tool che hai su foundry ad esempio metto a fare linee di vista le mappe gli effetti ambientali le luci il fumo che esce automizza è tutto sei bravissimo in realtà queste cose non le so fare ecco una delle cose utili dell'online che viene molto bene molto meglio del live al tavolo sono le musiche le cose d'ambientazione che ovviamente è molto più semplice fare sì sì una cosa che una cosa che mi manca che mi manca dell'online che mi è mancata è il tributo al master nel senso che da me si portano i biscottini il kit kat il tè eccetera eccetera online mi devo corrompere da soli certo te li fai mandare me l'hanno mandati in una pandemia un giocatore voleva fare una cosa mi ha mandato una scatola di dolcetti è venuto in macchina me l'ha lasciata giù ed è andato via ma bellissimo sì 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 esatto quanto voleva corromperti quanto grande era la cazzata che stava facendo enorme grande grande l'ha fatta e poi è morta tra l'altro quindi non mi è servito comunque niente questa forma di corruzione ma è la forma di corruzione migliore cioè dando da mangiare nutriendo il master certo certo guarda sono le sette ok quindi abbiamo fatto un'oretta giusta bella piena non come l'altra volta quell'oretta sbagliata che era un'ora e mezza e siamo persi completamente esatto semi cheat Homer Simpson esatto quindi io ti ringrazio tanto per queste due live che abbiamo passato insieme abbiamo parlato veramente di tutto di più abbiamo tralasciato anche tantissime tantissime cose sono sicura che magari ti potrà replicare in futuro ma volentieri anzi ovviamente ti inviterò anche da noi sì sì perché così almeno ti porti anche un po' di un po' di master cattivo anche da noi ottimo io intanto lascio qui il tuo banner di Twitch YouTube che vi abbiamo detto all'inizio ve lo ricordiamo ancora adesso di andare comunque a seguirti su YouTube anche su Twitch non abbiamo ancora un palinsesto ben definito perché comunque appunto siamo un canale abbastanza giovane siamo ancora stiamo ancora rodando vedendo un po' come vanno le cose però speriamo che piano piano le cose si assessino esatto guarda ti chiede se farete live su opere naturali delle sessioni e delle campagne su opere naturali cioè non lo so oggi mi sento stupido cioè leggo le domande e dico perché cosa sto leggendo sono io che manca qualcosa comunque allora noi parliamo molto di GDR parliamo molto di campagne non so se il fatto che tu intenda campagne live in quel caso non ancora campagne nate ok nate dalle sessioni farete live su opere nate dalle sessioni dalle campagne allora parliamo molto in realtà delle nostre sessioni delle nostre di quello che facciamo effettivamente quando giochiamo al tavolo di quello delle cazzate che abbiamo fatto quindi da quel punto di vista ne parliamo molto e ci manca ancora il giocare online non per andare alle sessioni se ne può parlare noi siamo molto aperti anche al al pubblico cioè se se volete venire siete i benvenuti soprattutto se avete voglia di condividere argomenti cose eccetera perché ci fa sempre piacere lasciare spazio anche a chi viene a trovarci diciamo certo ora qui cosa ne pensate di uno sguardo nel buio Christopher questa era una domanda che tu ci hai fatto sapendo che esatto esatto cioè questa live metà l'ha fatta Christopher io vorrei non vorrei dire assolutamente nella lista dei vips che ci che ci molla così i titoli dei dei GDR ok bello allora niente ti ringrazio davvero tanto vi saluto e vi insomma ringrazio anche ovviamente tutte le persone che ci hanno guardato in diretta che hanno guardato sia la prima sia la seconda che hanno guardato solo la seconda che hanno guardato solo la prima ma che le guarderanno tutte e due perché se le guarderanno quindi le riprendono la seconda e poi la prima eccetera e vi vi invito insomma ad andare a trovare su Twitch Federico e basta fine ho detto tutto fine buona serata a tutti grazie grazie mille ciao a tutti ciao ciao buona serata